Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Da domani in vigore il nuovo decreto con le misure per contestare il contagio da coronavirus su tutto il territorio nazionale, dunque anche nel Lazio e a Roma, sarà vietato uscire dalle 22 alle 5 del mattino. In caso di spostamenti inderogabili sarà obbligatorio avere con sé l'autocertificazione e il modulo è disponibile sul sito del Viminale. Il Lazio rientra nell'area gialla e qui vale anche la raccomandazione di evitare sia nel territorio regionale sia nel proprio comune di residenza tutti gli spostamenti non necessari. Bus, metro, tram e treni locali dovranno viaggiare al 50% della capienza d'eccezione del servizio di trasporto scolastico. Le altre notizie. Domani sciopero nazionale dei tassisti. A Roma doppio presidio di protesta nel corso della giornata. Il primo sit-in dalle 10.30 alle 12.30 in via 20 settembre e l'altro dalle 13 alle 17 in piazzale di Porta Pia. In entrambi i casi possibili ripercussioni sul traffico. Lo sciopero, lo ricordiamo, si svolgerà dalle 8 alle 22 e intanto nel pomeriggio il ministro dei trasporti De Micheli ha fatto sapere che sono state sbloccate le risorse per taxi e NCC. Per il momento è tutto. Un saluto dal Tg della mobilità. Un saluto dal Tg della mobilità.